Pogatez Ed entra in rete, gol! La tecnologia in campo che molti avevano invocato qui è stata decisiva e ha consentito di convalidare questa rete Anche perché in diretta non era facile capire se il pallone avesse o meno superato la linea bianca E ce n'è voluto di tempo, finalmente si sono decisi ad adottare la tecnologia anche nel calcio Almeno in episodi più controversi come il gol non gol Grazie